Da un crack ad una occasione, in questa ottica, secondo il sindaco Aliberti, va inquadrata la questione della ex Copmes di via Domenico Catalano a Scafati. Allo studio Giugiaro, il compito di provare a trasformare volto e destinazione dell'ex area industriale. Costi ridotti al minimo, meno di 100.000 euro di investimento per il comune, sulla somma complessiva di 45 milioni a carico dei privati previsti per la realizzazione del progetto. Progetto che prevede il recupero estetico e funzionale degli opifici già esistenti dell'area, la costruzione di altri capannoni industriali che saranno destinati all'artigianato e alla piccola imprenditoria, l'edificazione di un centro direzionale, i cui quattro livelli ospiteranno un centro servizi polifunzionale ed ecosostenibile a disposizione di tutta la cittadinanza. Una superficie di ben 129.000 metri quadri che sarà suddivisa ad hoc tra edifici del settore industriale e terziario, parcheggi per veicoli più o meno ingombranti, strade interne e tratti pedonari. Ma ci saranno anche aree verde e corsi d'acqua. La Copmes è diventata una grande opportunità per Scafati. In Consiglio Comunale l'opposizione ha sollevato la questione del progetto che è a più o meno 100 metri dal cimitero perché esiste naturalmente una norma nazionale. Esistono però delle norme tecniche di attuazione che fanno riferimento a un vecchio piano regolatore generale che è quello in essere del 1993. Esiste una delibera di Consiglio Comunale fatta nel 1998 dall'amministrazione di centro-sinistra. Esistono delle opere pubbliche, il mercato settimanale, il palamangano, il palazzetto dello sport che sono state realizzate addirittura a meno di 100 metri. Lei è informatissimo. Esiste anche un progetto preliminare relativo a quell'opera che è stato firmato, è stato approvato addirittura dal vice sindaco che ha sollevato oggi la questione in senso inverso. Questo per dire che naturalmente si tratta di una vicenda strumentale. Invece la cosa più importante è che quell'area regalata in passato a un truffaldino del nord che si chiama Bartioli, oggi noi la ridiamo agli imprenditori, non il regalo, facendola pagare agli imprenditori e la riqualifichiamo in modo straordinario.